Ho letto i documenti e vorrei fare delle domande di carattere informativo. Da quello che ho letto capisco che nel 2008 la Commissione ha attribuito un sussidio di 671,8 milioni di euro e che più tardi nel marzo 2013 invece si è passati a 398 milioni che sono stati spesi e che dovevano essere spesi entro il 31 dicembre del 2015. C'è un inventario, c'è un riepiligo di tutte le opere che sono dunque state pagate con questi sussidio europei. Esiste questo inventario, questo registro per vedere se effettivamente i soldi sono stati utilizzati, questi 398 milioni e per che cosa? E se esiste può essere messo a disposizione del Parlamento? Una seconda domanda riguarda, penso che effettivamente un progetto infrastrutturale deve svolgere il suo materiale rotante che proviene dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Ossia eccetera e che quindi permetta un shift modale. In qualità di direttore e di dunque esperto dei sistemi ferroviari francesi può dirci qualcosa dei sistemi che vengono utilizzati. Per esempio io leggo nella documentazione Multiverse fra gli altri sistemi, anche questi sono stati finanziati attraverso la DEMI. E il parco di questi sistemi che dimensioni ha? Ha delle informazioni in materia oppure possiamo ottenere queste informazioni scritte? Penso che non le ricordi così a memoria. E poi un'altra domanda, una domanda, da quello che ho letto ho capito che praticamente quelle cose che vengono utilizzate in Svizzera, in Austria, le ruote praticamente dei treni che vengono utilizzate in altri paesi vengono proibiti appunto in Francia. Come mai? Dal momento che non disumo questa informazione dalla documentazione che è stata data. Al prossimo episodio